Italiani che partono, oggetti personali che restano. Già perché capita spesso di accorgersi sotto l'ombrellone di aver dimenticato a casa un libro, un romanzo o nei casi più particolari uno smartphone. Allora niente foto, niente messaggi e via di avventura. Ma per molti questo sembra essere uno dei primi pensieri quando si ricontrolla la valigia al momento della partenza. Il telefono, purtroppo, perché poi il lavoro chiama, è un incubo. Io ho il cellulare. È l'unica cosa che ti può essere utile? Sì. Soldi, ok, cellulare. Se abbiamo una casa in montagna allora la leggo. Dentifricio, pantaloncini corti, costume da bagno e maglietta. Qualcun altro la prende con più filosofia? Il resto si trova andando. Ma non per tutti le vacanze sono una meta obbligata. No, non ci andiamo addirittura. Perché no? Non ce lo possiamo permettere quest'anno. Lei farà vacanze? No, non farò vacanze, mi dispiace ma quest'anno niente vacanze. Per chi quindi avrà la possibilità di andare al mare o in montagna, e perché no sul lago, la spesa media si girerà sugli 800 euro a persona. A dirlo una ricerca firmata col diretti, che ha segnalato un aumento del 16% rispetto allo scorso anno. Soldi che saranno spesi per due italiani su tre, per pranzi, cene e prodotti tipici dei luoghi che si vanno a visitare. Località che quest'anno, per il 78% degli italiani, saranno poco distanti da casa e quindi all'interno dei confini nazionali. Sì perché gli italiani tornano a preferire le nostre coste, senza peraltro nascondere una certa solidarietà nei confronti delle zone terremotate. In Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ci si aspetterebbero ben 6 milioni di italiani, segno di una sensibilità viva di tutti i connazionali nei confronti delle zone colpite dal sisma.